Il sindacato dei pensionati CGL di Verona è al vostro servizio. Anche in questo momento difficile, l'ospice CGL Verona è al vostro fianco. Il sindacato pensionati CGL è un sindacato che difende i tuoi diritti, che lotta con te per avere pensioni più dignitose. Per la pace contro l'orrore della guerra, per il lavoro contro il precariato, per la giustizia sociale, per la democrazia. Questo oggi è l'impegno della CGL e dello SPI. Oggi siamo in campo principalmente per la pace, perché nelle guerre a soffrire sono le lavoratrici e i lavoratori. I primi a morire sono i giovani sotto le armi, le donne, i bambini, gli anziani che non riescono a fuggire. Le conseguenze della pandemia e della guerra è ricaduta oggi su chi più in difficoltà, sulle condizioni concrete delle persone. La crisi energetica e i ricari anche speculativi hanno messo in ginocchio molte pensionate e molti pensionati. Lo SPI CGL in questo momento difficile è in campo per tutelare le pensionate e pensionati, per difendere il potere dell'acquisto, per rivendicare più sanità per la legge sulla non autosufficienza, per i diritti inespressi. Vieni nei nostri uffici, fatti tutelare dal nostro sindacato. Vieni nei nostri uffici per controllare la tua pensione, per verificare diritti previdenziali che non sono riconosciuti automaticamente dall'Inps. integrazione al minimo, maggiorazione sociale, importo aggiuntivo all'assegno pensionistico, quattordicesima mensilità, prestazioni a favore degli invalidi civili, assegno al nucleo familiare. Lo SPI CGL è con te e al tuo servizio. Lo SPI CGL ti offre la possibilità concreta di migliorare le tue condizioni di pensionate e di pensionato. Vieni nelle nostre sedi, iscriviti allo SPI CGL. Il sindacato dei pensionati CGL di Verona è al vostro servizio.